Io e te abbiamo un appuntamento, quale appuntamento? Ecco qualcuno mi scrive, mi scrive qua e dice grazie che tutti i giorni guardo i tuoi video e io mi diverto, perché uno mi ha detto ma tu ti diverti, se per divertimento intendi piacere, a me fa molto piacere fare questi video, se vuoi anche i libri scrivimi, anche scrivimi delle domande, appunto ti diverti, uno mi ha detto fino a quando? Finché posso faccio questi video, ma abbiamo un appuntamento, dunque mi metto a pensare, dunque abbiamo un appuntamento, ma il quale appuntamento? Allora il capo di Stato, il capo del governo, gli industriali, il Papa, hanno qualcuno che gli guarda gli appuntamenti, sono quelli chiamati non so il 25 aprile, primo maggio, oppure per il Papa Natale, Pasqua, appuntamenti istituzionali, ma in realtà io e te abbiamo un appuntamento, aspetta che mi concentro, un appuntamento, quindi io non ricordo, perché le segretarie, più di una segretaria, una volta un amico industriale mi ha detto che lui aveva sette segretarie, sette segretarie che gli dicevano bisogna fare questo, quello, no, no, Nascendo noi abbiamo un appuntamento, se la nascita all'inizio, in realtà inizia il concepimento in me, ma accettiamo la nascita, abbiamo un appuntamento con la fine, quando abbiamo iniziato abbiamo un appuntamento con la fine, se voi vi mettete davanti a un teatro o a un cinema e vedete la gente che entra, prima o poi deve uscire. Gli attori hanno l'ingresso di servizio, non entrano dalla porta principale, appaiono in scena, poi se ne vanno, ma chi va a teatro, chi va al cinema, chi va allo stadio, poi deve uscire. Se non esce ci sono gli addetti ai lavori, ai servizi, che ti vengono a cercare, magari ti sei addormentato, o se non vuoi uscire, si dice con la forza, ti portano fuori. Quindi abbiamo un appuntamento con la fine del corpo, cioè prendendo il corpo abbiamo un appuntamento con la fine del corpo. Ho visto dei bambini così piccoli che volevano il gelato e i genitori glielo prendono, poi però i genitori quando c'hanno sto gelato qua devono stare attento che non ci mette il naso o che non sta lì e ride e gli cola, allora dicono lecca, lecca, prendi il gelato. Quindi, perché poi si squaglia il gelato, quindi il nostro corpo è simile al gelato che prima o poi si dissolve, evapora, non c'è più. Allora noi abbiamo un appuntamento, ma quando l'abbiamo preso? Nascendo. Se noi andiamo a vedere, anche la Bibbia fa capire, perché ci sono certi che dicono che gli Anunnaki, gli abitanti Nibiru, sono di qua, hanno fatto esseri superiori, scienziati superiori, un esperimento genetico, ma anche la Bibbia dice che questo essere superiore, chiamato Dio, ha fatto un esperimento genetico, ha creato l'uomo, e come quello dice, viene prima l'uovo o la gallina, e qui viene prima l'uomo o la donna, l'uomo, poi dall'uomo la donna, poi tramite la donna e l'uomo insieme viene fuori i figli, l'esperimento, che non è andato bene, perché li ha cacciati. Attenzione, se leggete bene, Dio, appena loro hanno sbagliato, fuori. Non ha gli detto, vi do tre possibilità? Avete sbagliato, fuori. Tu devi sudare per guadagnarti da vivere, e tu partorrerai con dolore, la maledizione, no? Ma chi è questo qua? Vabbè, ognuno crede in quello che vuole credere. Però noi abbiamo un appuntamento. Io scherzando, dicevo a una mia amica che arrivava sempre in ritardo agli appuntamenti, tu vivrai a lungo, e cosa fai? Perché? Perché ritarderai anche l'appuntamento con la morte. E rideva, ma... L'appuntamento con la morte. Dico, tu hai un appuntamento, lo sai che è un appuntamento? Sai che abbiamo un appuntamento? Poi nessuno dice, sono le tre meno cinque, ho un appuntamento alle tre, però per arrivare a mezz'ora in ritardo, oggi telefonino e uno si può giustificare, ma l'appuntamento con la morte non è in ritardo. Perché l'appuntamento con la morte è quotidiano. Sapete come facevano a tenere svegli i frati? Mi hanno raccontato che si alzavano all'alba, però non c'era la luce elettrica. Allora davano una lanterna a uno, che girava e vedeva che quelli che si addormentavano, seduti per terra o appoggiati al muro, dicendo il rosario. Fratello, lo svegliavano, gli davano la lanterna, un gioco di... con la lanterna si tenevano svegli un l'altro e dicevano ricordati che devi morire. Era quello che si può chiamare come un mantra, un insegnamento quotidiano. Ricordati che devi morire. Allora quello prendeva la lanterna, andava a cercare il prossimo che dormeva, lo svegliava, gli dava la lanterna, ricordati che devi morire, e quello ricominciava con il rosario. Perché non c'era la luce elettrica. Si svegliavano all'alba, prima dell'alba, per pregare. È una vita monastica particolare, ma noi dobbiamo ricordarci che abbiamo tutti un appuntamento. Ma siccome è un appuntamento che può essere anche adesso, quando potrebbe essere adesso, è meglio dedicare non 24 ore al giorno, ma un po' di tempo a quell'appuntamento. Perché quell'appuntamento ti cambia tutto. Non è che ti cambia la vita, no, la vita è eterna. Ti cambia il modo di vivere, ti cambia lo stile di vivere, il tuo stile di vita. In quell'appuntamento è come quando vai sull'aereo. Se tu vai alla periferia di una città, prendi un aereo, puoi anche vedere dove abitavi. là c'è casa mia, là ci sono parenti, amici, la macchina, gli oggetti, i vestiti, io adesso sto andando via, volo via, ho portato solo una valigia, due valigie. Quindi noi, che cosa apporteremo in quell'appuntamento chiamato la morte? morte. I ricordi, ricordi, di che cosa? Di pensieri, emozioni, esperienze. È meglio alleggerire. Perché poi, la cosa migliore è arrivare con la mente vuota, libera, pulita. Oggi, molti medici dicono, se vuoi vivere bene a lungo, tieni libero l'intestino. nella meditazione dicono, tieni libera la mente, svuota la mente. Perché una mente troppo carica di elementi, di sostanze, di ricordi, di esperienze, emozioni, pensieri, parole, suoni, immagini, fa fatica. Fa fatica. Allora, noi abbiamo un appuntamento. Quindi, d'estate, sappiamo che poi finisce, l'inverno finisce. Krishna lo diceva, qui, in questo mondo, gioie e dolori vanno e vengono come le stagioni. C'è un continuo, un momento sembra, ah, qui sto benissimo, e il momento, ah, qui sto male. Però l'appuntamento che dico io, è un appuntamento totale. Conviene prenderlo bene. anzi, l'abbiamo già preso. Nascendo in un corpo, io non è che ho sempre avuto questa faccia, questo corpo, però, adesso è questo. Nascendo, sto andando verso quell'appuntamento. Dove vai? Eh, c'è un appuntamento. Sembra strano a dire. Uno ti fai una pezza, dove vai? Eh, lasciami perdere, c'è un appuntamento, ma dove? Con chi? Eh, vuoi che te lo dica? Sì, con la morte. Quello dice, ma cosa sei impazzito? E se gli dice, anche tu hai un appuntamento con la morte, perché poi la morte l'hanno fatta vedere non come la fine di un cammino, di un'esperienza, ma come una persona vestita di nero, con la faccia, no? Sembra una persona che ti, no? In Oriente raccontano quella storia, no? C'è chi dice Samarkand, chi dice Bagdad, però quelle zone lì, che c'era un proprietario terriero che manda il suo servitore più fedele a fare la spesa al mercato. quando questo servitore va, vede la morte, perché lì, anche lì era presa come una figura umana, mantello nero, la falce, le ossute, dite, Che lo indica, a lui scappa, va dal padrone, dice, ma cosa c'è? spaventare, e guarda, sono stato al mercato e la morte mi guardava e mi indicava col dito io sono scappato, forse voleva portarmi via. prendi il cavallo migliore che ho, ti do una borsa di monete d'oro, vai a Bagdad, io lo sento a dire sia su Bagdad che su Samarkand, vai, la città è grande, non ti troverà, vai, si abbracciano, grazie padrone, poi gli scoccia che il suo servitore è stato molestato dalla morte, lo fa partire, vai, vai, scappa, scappa, va al mercato, vede una figura magra con sto mantello nero, la falce, che gira, va là, fa, tu sei la morte, quello fa, sì, sono la morte, che vuoi? Tu, prima, hai puntato il dito contro il mio servitore e l'hai spaventato, perché? cosa volevi da lui? No, volevo fargli una domanda, che domanda gli volevi fare? Gli volevo fare una domanda, ma cosa fai qui? Io e te abbiamo un appuntamento stanotte a Bagdad, se non lo vuoi capire, quindi era stupito, dice ma cosa fai qui, io e te abbiamo un appuntamento, quindi la storia dell'appuntamento è vecchia, ma la morte non è una persona che ci viene ad ammazzare con la falce, il mantello nero, brutto, no, 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 la morte è un fenomeno naturale, è un evento naturale, è un appuntamento che abbiamo, io ti ho solo ricordato oggi che io e te abbiamo un appuntamento, o perché ci vediamo, ma abbiamo un appuntamento con la fine di questa esperienza umana, che possiamo ripetere, attenzione, attenzione, non c'è l'inferno eterno, no, possiamo ripetere, una volta parlando con un teologo arriviamo che anche lui non credeva nell'inferno eterno e cominciava a accettare l'idea, questo teologo che ha scritto anche libri, teologia, che forse la reincarnazione è il purgatorio, lo spirito per purificarsi rinasce e sente una voce alla coscienza che dice stavolta fai il bravo perché ti conviene fare il bravo, quindi ogni tanto pensa a questo appuntamento che io ho, che tu hai, che ogni persona ha. grazie a tutti